Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Bentornati a chi è già iscritto e benvenuto e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Io mi presento, sono Morgana e oggi voglio proporvi le previsioni per questa settimana a venire, che andrà dal 18 al 24 novembre. Bene, noi faremo una lettura interattiva su tre possibilità, tre varianti di cui voi avrete la possibilità di scegliere attraverso i miei segnalini. L'immagine dei segnalini non predispone a una lettura positiva, una lettura negativa, perché, come voi sapete, nella cartomanzia e nella divinazione la base principale è la casualità. Bene, andremo ad usare tre mazzi di carte, di cui io adesso preparerò davanti a voi, senza aver preparato nulla. E con questa divinazione, con questa lettura, vi dirò come andrà la vostra settimana in base al mazzetto che voi andrete a scegliere. Spostiamo i segnalini, spostiamo le carte, andiamo a prendere il primo mazzetto che andremo a mescolare. Queste sono le mie carte preferite, nelle mie divinazioni, nei miei consulti, nei miei video, vedrete principalmente questo tipo di carte. Anche se poi spazierò, amplierò magari in base alle vostre richieste con altri mazzi di carte, ma le mie preferite saranno sempre queste insieme alle Sibille e alle Carte del Destino. Bene, andiamo a tagliare il mazzo. Mazzetti di tre carte. Questo è il primo mazzetto. Adesso andiamo a prendere il secondo mazzetto. Mi raccomando, concentratevi in piena libertà sulla settimana che sta per arrivare. Se avete delle decisioni da prendere, se avete dei colloqui di lavoro, se dovete parlare con una persona cara, con una persona a cui tenete, mi raccomando, concentratevi su questa persona. E con la lettura andremo a vedere come andrà la settimana in generale. Oppure, semplicemente, se volete sapere come andrà questa settimana, dal lunedì alla domenica. E come ultimo, come ultimo risponso, andremo a prendere una carta dal mio mazzo di carte siciliane che darà la specifica, il riassunto di tutta la settimana. Benissimo. Adesso andremo a segnare con l'emoji che ride il primo mazzetto, l'emoji con la smorfietta il secondo mazzetto e l'emoji con il cuoricino il terzo mazzetto. Prendetevi tutto il tempo che vi occorre per riflettere alla settimana, per riflettere i vostri impegni, le vostre scadenze, tutto ciò che vi aggrada sapere. Oppure, semplicemente, una lettura così generale della vostra settimana, che, ripeto, andrà dal 18 al 24 di novembre. Adesso andiamo a leggere il primo mazzetto, andiamo a spostare le altre due varianti, che per adesso non ci interessano, e andiamo a vedere l'emoji che ride, cosa ci dicono le carte. E' uscita la tristezza, ansietà, dispiaceri, vergine, fanciulla, sposa, dispiaceri, contrasti. Ecco, da quello che posso vedere io dalla prima stesura delle carte, qua parla di, se siete una donna, una donna abbastanza giovane, parla di un pensiero che vi dà molto dispiacere, vi dà molta preoccupazione, molta tristezza. Questo, diciamo, è il complesso di come inizia la settimana. Voi già iniziate la settimana avendo un pensiero, o siete voi la persona interessata, cioè la fanciulla interessata, che già ha una situazione che le procura ansia e perciò è dispiaceri. E vorrebbe in questa settimana concludere in modo positivo e ha una speranza di positività. Oppure è una persona di soggetto femminile che in questa settimana vi procurerà dei dispiaceri, perché i dispiaceri e i contrasti, ecco, che si ripetono, dispiaceri e dispiaceri. Perciò o siete voi una ragazza in questione che già ha dei dispiaceri e li vuole risolvere, oppure sarà una persona di sesso femminile, bruna di capelli, che vi porterà un dispiacere in questa settimana. Io spero di no. Andiamo a vedere come andrà a svolgersi questa situazione con le altre tre carte. Ecco che l'inizio della settimana non è un granché, come vi dicevo, però pian piano che la settimana si evolve, ecco che la situazione dovrebbe andare a migliorare. Nel senso, abbiamo il trionfo, giovane di casa e amore. Diciamo che questa situazione è più predisposta per un dispiacere nell'ambito della coppia. Ecco, magari voi avete un pensiero su un giovane che magari vi sta dando delle piccole preoccupazioni, oppure non si manifesta a voi come voi vorreste, come voi desiderereste, ed ecco che a voi porta dentro di voi un piccolo dispiacere. Le carte però, in questo momento, le seconde carte non sono né negative né positive. Abbiamo una carta del trionfo come inizio, però qua si vede questo giovane di casa che tenta di afferrare, in questo caso tenta di afferrare la torta che c'è sul tavolo, in questo caso tenta di avvicinarsi a voi, tenta di parlare con voi. Però voi siete chiusa in questo dispiacere che avete, magari per la stessa persona, e siete tutte e due come bloccati da questa forma di ansia, di tristezza che vi avvolge. Adesso andiamo a vedere come si concluderà la settimana tramite la carta del mazzo siciliano. Ecco, questa è la carta delle discussioni, delle questioni. Ecco che voi avrete un chiarimento con questa persona, però che fondamentalmente, se voi siete predisposti al chiarire, e allora può portare a una svolta positiva. Positiva, però, se voi vi ostinate a farvi prendere dall'ansia e dalla tristezza, porterà semplicemente ad altre questioni e ad altre discussioni. Bene, andiamo a vedere adesso cosa ci dicono la seconda variante per chi ha scelto l'emoji con la smorfia. Ecco, per chi ha scelto l'emoji con la smorfia, lo metto qui, andiamo a vedere come sarà la settimana che, ripeto, va dal 18 al 24 di novembre. Ecco che qui andiamo a vedere tutt'altra situazione, perché, in poche parole, queste carte mi vanno a parlare di una situazione di salute, di una persona, come se voi, consultante, avrete da passare una visita con un medico, perché ecco che riesce la visita e il dottore, protettore, ecco che mi esce, diciamo, come se voi, in questa settimana, avete da fare una visita medica. Ecco, quello che io vi posso dire dalla prima stesura delle carte è che, prima di tutto, dovete stare tranquilli, perché, fondamentalmente, non ci sarà niente di allarmante. Oppure, potrebbe anche significare che voi avete qualche piccolo malessere e dovete andare a controllo dal medico, oppure dovete andare semplicemente dal medico e tutto si risolverà in modo positivo, perché c'è la riuscita, il sollievo e la tranquillità da questa visita che voi dovete fare, oppure da questo piccolo malessere che per adesso avete e che vi porta ad avere un pochino di preoccupazione. Andiamo a vedere le altre tre carte. Cosa ci dicono? Soldi, situazione bloccata, lettere a documento. Ecco che la settimana si apre con una visita medica o con l'esito di una visita medica. Poi, una situazione bloccata economicamente per quanto riguarda dei soldi che sono in questo momento bloccati troverà, diciamo, sblocco perché vi arriverà una lettera, un documento che vi porterà una situazione un pochettino da sistemare. Ecco, perché avete questa situazione di questi soldi magari che aspettate oppure di questi pagamenti che dovete fare, che vi blocca emotivamente e voi aspettate magari una lettera, un chiarimento dalla persona che vi hanno indicato per poter sbloccare questa situazione di soldi, però al momento la situazione del vostro denaro è e continua ad essere bloccata. Questo per quanto riguarda la metà della settimana. Adesso andiamo a vedere con la carta siciliana se questa situazione rimarrà bloccata o si evolverà in meglio. Benissimo. Questa è sempre una lettera di documenti, di soldi. Dovrebbe essere positiva, ecco, perché diciamo che questa carta rappresenta la documentazione, i soldi, tutto quello che riguarda l'ambito economico oppure documenti, cose che dovete pagare, cose che dovete sbrigare. Ecco che tutto si svolgerà nell'ambito di questa settimana, sia quello per quanto riguarda la visita medica o il risultato di un esame che voi aspettate e quello sarà positivo perché voi avrete la risposta positiva per quanto riguarda la salute, che penso che sia la cosa più importante. Per quanto riguarda la questione denaro, che in questo momento è una situazione un pochettino bloccata, ecco che dovrete attendere un po' affinché questa situazione si venga a sbloccare, quantomeno in questa settimana rimarrà bloccata. Mi raccomando, se avete domande da farmi, mi potete lasciare un commento. Se avete domande da farmi, mi potete lasciare un commento e io risponderò al vostro commento attraverso un video dedicato oppure farò una stesura di carte riguardante il commento che voi mi avete lasciato, sempre in modo generale, che riguarda anche la risposta che vi devo dare. Ecco che andiamo a vedere l'ultimo emoji, che è quello col cuoricino, che riguarda la terza stesura di carte per quanto riguarda la terza versione che avete scelto. Andiamo a vedere, fortuna, giovane, viaggio. Ecco che questa settimana per chi è un giovane in generale, se questo video lo sta guardando un giovane, ecco che si prospetta un viaggio, una combinazione, una casualità, un momento fortunato che sarà veramente fortunato per questo giovane. Perché qua parla di un giovane, ragazzo, che avrà come un colpo di fortuna per quanto riguarda uno spostamento, una combinazione di eventi, un viaggio che deve fare o gli si prospetterà un viaggio da fare. una combinazione di eventi casuali che lo porteranno magari a uno spostamento e questo spostamento per lui sarà estremamente positivo. Sarà, come si suol dire, un colpo di fortuna. Andiamo a vedere le altre tre. Ecco che questo colpo di fortuna avviene dopo una rottura e un sacrificio che questa persona ha dovuto fare per arrivare fino a oggi. Ciò che cosa significa? Significa che la persona che ha scelto questo mazzetto sta uscendo e uscirà questa settimana da una situazione che lo ha portato ad fare grandi sacrifici, lo ha portato anche a fare delle scelte che lo hanno portato ad avere delle situazioni di rottura con ambito lavorativo, con fidanzate, con familiari, con amici. Però anche se lui in quel momento ne ha sofferto però ad oggi quello che sarà nella prossima settimana è stata la sua più grande fortuna perché questa rottura e questo sacrificio, questo dispiacere che lui ha avuto lo porteranno a una condizione di eventi casuali che lo porteranno a fare una a cambiare decisione, a fare un viaggio e sarà la sua fortuna. Adesso andiamo a vedere cosa dice la carta del mazzo siciliano ed eccolo qua infatti io mi aspettavo che fosse questa la carta, questo sta a significare un uomo di prestigio che lui potrebbe incontrare potrebbe essere la sua fortuna come potrebbe essere che tutti questi eventi casuali che lo porteranno dopo questo sacrificio e questa rottura a prendere una decisione di un viaggio di una di una combinazione di un cambiamento lo porteranno a essere un uomo nuovo perciò o incontrerà una persona che lo aiuterà a cambiare vita come si suol dire oppure le combinazioni che si verranno a creare in questa settimana lo porteranno ad essere un uomo nuovo. Queste sono le carte di questa settimana mi raccomando se avete domande da farmi se volete un consulto se avete delle domande specifiche vi chiedo cortesemente di lasciarle nei commenti io risponderò sempre attraverso dei video dove parlerò in modo generale della risposta che la persona attende e da Morgana un gradito saluto e un grazie per l'attenzione che mi avete dedicato arrivederci